Stiamo salendo a Nakano Broadway, questa è la classica inquadratura da scale mobili e vi facciamo vedere perché siamo a Nakano e siamo su scale mobili dunque siamo a Nakano Broadway, siamo obbligati per la legge italiana, penso, non lo so, a fare queste cose due e dunque vi accompagneremo anche noi in realtà Grazie a tutti 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 Grazie a tutti